Ciao amici andiamo avanti con il video dei 45, seconda parte, probabilmente saranno tre parti adesso vediamo, vedendo la pila che ho dietro ancora da farvi vedere Collage, SOS, Collage, gruppo italiano, Zincara nel cuore e SOS, questo disco non lo conosco sinceramente me l'hanno regalato, ah alcuni li ho comprati e alcuni me l'hanno regalato Capolavoro assoluto invece per Anna Oxa, in questo caso un'emozione da poco, ok? E il retro è Questa è vita, questo è un pezzo incredibile, se avete visto lo chiamavano G-Grobo, lo conoscete certamente Barbara Streisand, tra l'altro, no Woman in Love ovviamente, Barbara Streisand, dietro c'è la pubblicità del 33 del disco, quindi dell'album completo Questa è una delle tante varianti di Popcorn, la canzone strumentale fatta con il Moog, l'organo Hammond e la batteria e il basso Il disco più pop dell'anno, ah, gioco di parola Popcorn, questa è la versione dei Popcorn Makers, non la più bella, la più bella secondo me è bellissima l'originale Che è tipo degli anni 60, adesso questo dovrebbe essere degli anni 70 Altro pezzone anni 80, beh è il retro in verità Ah no, questo è Dream, no, non è quella che intende lui P-Lion comunque, Children, adesso questo non conosco Dream, però l'ho comprato perché era lui Raffaella Carrà, ma che musica maestro Sigla di canzonissima, 70 Quindi Raffaella Carrà, vendeva la quantità spropositate Gianni Morandi Ma chi se ne importa E abbiamo anche adesso, non la vedo, ma Isabella Beh, questi li compro principalmente perché è Gianni Morandi, nel senso alla fine uno si fida Poi le volte li trovi a un euro esattamente Il 7 febbraio 2019 per un euro li ho comprati Capolavoro assoluto invece Altro disco di Lucio Battisti Anche per te è ovviamente la canzone del sole come retro 3,40 euro non lo compri Purtroppo a volte sono rovinati Main Network, gruppo australiano, mi pare Rock, anni 80, incredibile Who can it be now? Conoscete la canzone? Anzi, conoscete i Main Network se avete visto Scraps Perché li cantano Overkill C'è una famosa scena dove il cantante dei Main Network la suona con la chitarra e segue Turk e JD, mi pare Quindi la conoscete certamente Questa è una canzone un po' particolare Ugolino Ma che bella giornata È tipo una canzone comedy, diciamo così C'è uno sketch di cabare Carino Le Orme, canzone d'amore Torniamo sul prog qua Le Orme quando ancora non facevano prog e il retro è finita la stagione Ovviamente Philips perché le Orme comunque sono sempre state di alto livello Canzone invece fatta solo con il Moog E non vi ho fatto vedere il 33 ma mi piace molto questo genere Qui il Guardiano del Faro che è un suonatore di Moog italiano all'avanguardia Molto all'avanguardia dell'epoca Negli anni 70 e 60 Già Il Gabiano Infelice Molto 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 interessante Soprattutto il 33 solo strumentale Molto molto bello Gianni Bella non si può morire dentro Quindi il fratello di Marcella Bella Fratello, sì mi sembra proprio di sì Questa era andata mi pare A Sanremo O no All'Eurovision forse I training di Toeser Alice e Battiato Insieme con questi occhiali da sole Incredibile Questa pezzo assolutamente bellissima Visage Fate to Grey Molto famosa Adesso non si vede È una canzone sempre anni 80 Quindi classico stile pop anni 80 Molto famosa perché c'è una cover fuori di testa Anita Ward Ring My Bell E non è parente di Luca Ward Questa è un'altra canzone anni 80 molto famosa Questo è vabbè Renato dei Profeti Lady Barbara Bene Words Altro super pezzo anni 80 Molto molto famoso Se l'ascoltate la conoscete F.F.R. David Words Pippo Franco mi scappa la pipì Va bene La mettiamo qui Questa è una canzone particolare Perché è una di quelle Che ascoltavo quando ero molto giovane Scola Cantorum Quindi una scuola di C'è una scuola Non so come dire Un coro sarebbe Ok Che canta questa canzone molto particolare Che si chiama Le Tre Campane Molto particolare Narra la vita di una persona In base alle tre campane Cioè il battesimo Il matrimonio E il funerale E mi piaceva molto quando ero piccolo Questa Questa è un capolavoro Della commedia degli anni 70 Questa è un'altra delle cose Cosa a cui sono super Affezionato per Diciamo così Perché l'ascoltavo quando ero piccolo La famiglia dei Terroni e Polentoni E il retro è La società dei Magneccioni In questa versione particolare Ed è sempre un disco Comedy Cabare 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 Carino Comunque Cioè non è È molto razzista Ma anche divertente Rockwell Somebody's watching me Questo è un disco molto interessante Perché nel Ritorno La conoscete sicuramente Super famosa negli anni 80 Ed è prodotta Dalla Motown Records Che è una famosa casa discografica Appunto Che si chiama Motown Che ha dato via un genere particolare Di cui facciano parte Michael Jackson Stevie Wonder E un miliardo di altre persone Bassisti di quell'epoca lì Paurosi Questo Rockwell È il figlio Del capo Della Motown E ha fatto una canzone sola Ma in quella canzone c'è Michael Jackson C'è il ritorno di Michael Jackson Quindi per dire Il livello Comunque la canzone è molto bella Somebody's watching me Copertina bellissima Dei Modern Tolkien No facendo delle copertine molto belle Ho una cassetta Dei Modern Tolkien In questo caso Sherry Sherry Lady Super successone Questo era una Ecco Questo è un disco molto bello Simile a USA for Africa Come si chiama quella canzone? We are the world Sempre quel principio lì Quindi una canzone Come dire Per beneficenza Però è un disco bellissimo Adesso non si vede purtroppo dal vivo Cioè dal video Ma dal vivo è molto bello È inciso Cioè è davvero figo Questa vabbè è un'altra canzone Molto molto famosa Comunque sia Uno dei film più belli di sempre Grease Olivia Newton-John E John Travolta Ovviamente Questa Una delle prime canzoni Hip-hop Rap Famose Che è Rappers Delight Rifatta un milione di volte Campionata un miliardo di volte Tra l'altro Molto interessante C'è un documentario Su Netflix Che racconta Della nascita Di questo genere Negli anni 70-80 Di come Prendevano le canzoni Disco music Le tagliavano Eccetera Wobinda Questa È una trasmissione tv Aiketina Turner Adesso non so cosa c'è su qua Rovinatissimo Sexy Ida Parte 1 e parte 2 Non so cosa sia Questo Le avevo già parlato Mike Holfield Uno dei miei Autori Compositori preferiti Crime of Passion In questo caso Bellissima Dietro si vede il simbolo Di tubular bells Per intenderci Ed è della Virgin Questo disco Taco If you're blue And you don't know Where to go Why don't you go Where fashion fits Put in under it Questa canzone qui Famosa perché Canzone cantata Negli anni 50 Adesso non mi ricordo Esattamente la storia Rifatta un miliardo di volte Non so se l'ha fatta Anche Marilyn Ma insomma Se non l'ha fatta Dovrebbe Adesso pezzo Incredibile Questo non la conoscete Dovete andarla Ascoltare immediatamente Tempi duri Chi è lui? Il cantante Dei tempi duri È Cristiano De Andrè Cioè il figlio di Fabrizio Di Andrè Questa canzone Che si chiama Tempi duri Dei tempi duri È palesemente Una canzone di Daira Straits Ma non è male È pali Ve lo assicuro È uguale Una canzone di Daira Straits Cioè Sembra Mark Knopfler Alla chitarra 100% Ma non c'entra Adesso tra l'altro C'è Mark Knopfler Tra poco Se non l'avete mai sentita Ascoltatela È incredibile Ed è davvero Cristiano De Andrè È proprio lui Daira Straits Stunner of Love Quindi quello da Making Movies Il 33 è uscito Questo singolo qui Five o'clock in the morning Village People E Food Fight Vabbè Village People Conosciamo tutti Miguel Somì È un'altra canzone È un po' cabaret Canzone comedy Adesso non so come Non so come chiamare Ma ce ne erano tante Una volta Adesso non so Se era una sigla Di qualche cosa Comunque eccetera Ma è molto carina Questa cosa È perché È un misto Tra messicano E veneto Fa molto ridere Ascoltatela su youtube Prosky Beat Why Tell me why Quella lì Per intenderci Mi pare Dovrebbe essere qui Elettrica salsa Da 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 Ah no Ba 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 Top 10 in Germania E Benelux Esiste ancora il Benelux Non so Si usa ancora questa parola Non lo so We are the world Singolo O anche il 33 di questo Come vi dicevo prima Comunque abbiamo visto Parlato prima We are the world La conoscete per forza Ecco di questo disco Parlava qualcuno In qualche commento Qualche tempo fa Perché io lo ascoltavo Molto quando ero piccolo Allora è Enzo Iannacci Vengo anch'io No tu no Ma il retro Cioè Giovanni il telegrafista È una canzone incredibile Bellissima Che hanno rifatto anche I Selton Qualche tempo fa Che prende Il testo di una poesia Brasiliana Portoghese Adesso non lo so Incredibile Bellissimo Un giorno faremo un video Proprio su questa canzone qua Però io lo ascoltavo Quando ero piccolo E mi inquietavo un sacco Quindi se Se tu che hai scritto Quel commento Sei arrivato fino a questo punto Del video Fammelo sapere Come avete capito Gli anni 80 Mi piacciono molto Cutting Crew I just died in your run tonight Super famosa Anche questa canzone qui E for the longest time Il retro Iva Zanicki Zingara E il retro Io sogno Anzi Credo che questo Non sia il retro Questo sia il fronte Poi è diventato Più famoso Quello lì Roberta Kelly Zodiac Va bene Anni 80 Se avete visto il film Non mi ricordo se c'era questa canzone In Spider-Man Nell'ultimo Spider-Man film Non cartone animato Umberto Tozzi Ti amo TV Su TV Su 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 Scrivi più sotto Il tuo nome In indirizzo E riporta il disco Dove l'hai Comperato Non più tardi Del 15 settembre Mi sa che siamo In ritardo Adesso Se si legge Andiamo Così potete Questo è un pezzo Molto bello Disco Disco Duck È una canzone Particolare DJ Scott Molto molto Particolare È davvero strana Che c'entra con Appunto Paperino Come si vede Versione americana Questo è un pezzo Bellissimo No Questa It's Speedy Like a Gonzales Like Gonzales Dei Passengers Bellissimo Questo è un pezzo Bellissimo Che non so Non si sente mai In giro I'll be standing Beside you Uh Questo è un pezzo Interessante Storicamente La conoscete sicuramente Perché ci facevano anche Dei giochini Adesso vediamo solo il retro Ci facevano dei giochini Del Kinder Ferrero Dell'ovetto Kinder Bangles Video Killed Radio Star Molto interessante Proprio dal punto di vista Storico Prima canzone passata Su MTV Ma anche molto interessante Perché il video Si vede appunto la televisione Che distrugge la radio Perché in quell'epoca Si pensava che la radio Sarebbe sparita dagli a poco Ma invece c'è ancora Alan Sorrenti Figli delle stelle Tra l'altro Alan Sorrenti Ha fatto anche un disco Prog Molto molto interessante Che si chiama Aria Molto molto bello Vabbè Figli delle stelle Invece la conoscete Sicuramente tutti Rivers of Babylon Boneyeme Brown girl in the ring Due pezzi Paurosi Ma i Boneyeme Sono incredibili Bellissimi Adriano Pappalardo Ricominciamo E Hi-Fi R-C-A in questo caso Questa la conoscete Certamente Questa se conoscete Gli Elio e le storie tese La conoscete Sicuramente Born to be alive O Born to be Abramo Di Patrick Hernandez Questa è una canzone Che ha fatto parlare Di sé Per molto molto tempo Perché parla di Sesso a pagamento Comprami di Viola Valentina Anche questa super super famosa Luna Gianni Togni E guardo il mondo Da uno blo Mi annoio un po' Quella lì Questa non dico niente Voiti la disco dance Freddy the Flying Dutchman And the Sistina Band Capolavoro Questo invece è pezzo Questo è davvero bello Davvero bello Natale generale Di Francesco De Gregori Non ovviamente la versione Di Vasco Rossi Questo è pezzo Non bisogna dire nulla Cioè è un capolavoro A sé stante Dov'è C'era un ragazzo Che come me amava I Beatles e Rolling Stones Gianni Morandi E se perdo anche te Che è una cover Di una canzone Che adesso beh Forse è una cover anche sua Di Johnny Cash Love of the Common People Paul Young Super pezzone Anni 80 Sta cadendo tutto Sistemiando un po' Ecco questo Anche questo meriterebbe Un video a sé stante Radio Clima Di Garbo New Wave Italiano Anni 80 Pauroso Il 33 Bellissimo Questa canzone Super super consigliata Questo è il 33 Che ho anche Poi ve lo faccio vedere Questa è un'altra canzone Che ascoltavo Quando ero piccolo Piange il telefono Domenico Modugno Bellissima Telefonata tra Appunto Domenico Modugno Che fa il papà Separato Che telefona a casa Della mamma Con la figlia Risponde la figlia E parlano Il papà e la figlia Che però non si conoscono Un pezzo bellissimo Con la piccola Francesca Guadagno Chissà che fine Ha fatto Francesca Guadagno Fatemelo sapere Non lo so Magari è diventata famosa Prince Non so che canzoni siano Però Vabbè Prince Quindi Another Lonely Christmas È Prince L'ho comprato Perché Prince Comancero Questo Era dei Raggio di Luna O Moon Ray Si chiamavano anche L'ha descritto anche sotto Questo Da una parte Vocal Dall'altra Instrumental Tra l'altro qua dice Franco Gatto Forse È quello dei Ricchi e Poveri È lui Non sapevo In questo caso Comunque è un pezzo Incredibile Della disco Anni 80 Italo disco Bellissimo Triangolo Renato Zero Va bene Non so se siete Dei sorcini Questo ecco Un pezzo Molto molto bello Cavallo Bianco De Mattia Bazzar E per un'ora D'amore Sull'altro lato Mattia Bazzar Nati come disco Prog Voce Paurosa Musica Bellissima Cavallo Bianco Super consigliata Per un'ora D'amore Forse la conoscete Questo disco È super Vi dicevo prima Adeliano Centano Adeliano Centano Adeliano Centano Non so se è il video Prima o ora Present Call In Nation Unchusor Questo è incredibile Perché Allora il disco E adesso non mi ricordo Di che anno è Ma comunque Facciamo finta Che sia del 76 E qui c'è scritto Numero 1 In tutto il mondo Dati forniti Dal centro elettronico Del futuro 78 Cioè tipo Due anni prima Diceva che questa canzone Sarebbe stata ancora Il numero 1 E non è andata lontano Forse la prima canzone Rap e Hip Hop Mai scritta Incredibile Bellissima Scritta in una lingua Che non ha nessun significato Tipo l'onfo Che non va terca Ne gluisce E molto raramente baricato Questo è molto raramente baricato Incredibile Tarzan Boy De Baltimora Che è una copertina Bruttissima Sempre Siamo sugli anni 80 Bad Davies Eyes E c'è Electricity Sempre quel genere lì Un po' Synth wave Agni 80 Che prende un po' Dai Kraftwerk Un po' Dai Bronski beat Insomma quel genere lì E non la gay Che ovviamente è il nome Dell'aero Che lancia la bomba Di Hiroshima Tutte e due Pezzi Paurosi Questo è un disco Molto molto bello Quarta 5 Molto bello Di un Chitarrista italiano Molto molto estroso Che faceva parte Della scena Diciamo così Ska Punk Alberto Camerini Ovviamente Dance Bambolina E il retro è Maccheron Elettronici O anche il Il 33 di questo Ed è una Ovviamente Dance Bambolina La conoscete perché Hanno fatto cover Adesso non mi ricordo Versioni Euro Dance Italo Dance Gigi D'Agostino Non so chi l'ha fatta No non Gigi D'Agostino Comunque Robin Gibb Juliet Che veniva Cantata da mia amma Rubinette O Rubinette Nell'anni 80 Quindi ce l'ho Up Down Like a Yo-Yo Life is just Giddi Appa Go-Go Degli Ad Visser E Daniel Sauleca Questo Culture Club Karma Chameleon Pezzo incredibile Disco incredibile Ovviamente George Michael E non George Michael Come si chiama lui? Boy George Boy George Boy George Ecco come si chiama Boy George Morto mi pare Sì Alphaville Big in Japan Gli Alphaville Incredibili Adesso non so se ho Il retro Cos'è? Sì Alphaville Big in Japan Bellissimo You Take Myself You Take Myself Control Canzone super famosa Perché è stata fatta anche Da Laura Branigan Mi pare In versione inglese Americana Ecco quello che dicevamo Prima invece George Michael Why M Wake Me Up Before You Go Go George Michael è morto Certamente Cover della canzone Di Somebody To Love Fatta al concerto De Queen Poweroso Forse la versione più bella Di Somebody To Love Mai Fatta Yo Spin Me Round Si chiama Ok Dei Dead or Alive Anche questa versione Resa famosa Da qualche cover Di qualche tempo fa E poi mi ricordo Un passaggio a matricole Meteora E terrificante Va bene Rigueira Le stanze sta finendo Italianissimi E frizzissimi In questa Cover In questa copertina Please Don't Let Me Me Misunderstood Più Esmeralda Sweet Dei Santa Esmeralda Anche questa è una canzone Molto famosa Questo ecco Daniela Goji O Baba Luba O Baba Luba O Baba Luba Si Ed era la sigla Di Due Ragazzi Incorrigibili Che credo fosse Un programma per ragazzi Qualcosa del genere Ed è cosa qui A Ziggo Zago C'era un mago Con la faccia blu La sveglia L'8 di luglio La sveglia sul collo Segnava le 23 Una roba degli anni E' una sigla Molto 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 carina Per bambini Tempo delle mele Dreams in a reality Colonna sonora del film Ovviamente Altra colonna sonora In questo caso Altra colonna sonora Non so più parlare Happy Days Lima Neverending Story Questa è la canzone appunto Della storia infinita Il film Sempre colonna sonora Europe Europe Ovviamente Final Cano Questo capolavoro Incredibile Qualche bei capelli Che aveva Il retro è On Broken Wings Ultimi due Per questo video Let's Get Physical Di Olivia Newton-John Quindi sempre Lei di Grease Ultimo disco Per questo video Don't You Forget About Me Dei Simple Mines È stato difficile questo video? Sì molto Ci vediamo per il terzo In cui finiamo Questa review Della mia collezione Arrivederci Della mia collezione